Andiamo ad Avellino contro una squadra che ha dimostrato non soltanto con l'ultimo turno, vincendo meritatamente la partita a Milano, ma ha dimostrato in queste partite, in questi anni, di essere una squadra che è costruita anche quest'anno per lottare per lo Scudetto, che sta facendo molto bene, che sta gestendo molto bene il doppio impegno. È una squadra completa, al di là dei nostri ex, una squadra con tanti giocatori importanti. Andiamo a giocare fuori casa su un campo che oramai ben conosciamo. Da parte mia c'è curiosità, nel senso che comunque inizia un mese molto tosto per noi, con tanti impegni sia in casa che soprattutto in trasferta, coppe e campionato importanti. C'è curiosità per vedere come affronteremo questa sfida. È naturale che non ci presentiamo nelle migliori condizioni, ma al di là dell'assenza di Jenkins, ci portiamo dietro Orelick, che è arrivato con un blocco alla schiena. Quindi però, oggi pomeriggio dovrebbe arrivare Green, e di questo naturalmente volevo prima di tutto ringraziare il club. Vediamo come si presenterà. Sarà della partita, però come capirete bene, farà l'allenamento forse oggi pomeriggio e poi domani partiamo. Quindi al di là del fatto che anche lui è un ex. Però ecco, ci sono tutti gli ingredienti affinché sia una partita interessante, una partita tra due squadre che sono state protagoniste e cercano di esserlo anche quest'anno. E quindi ripeto, da parte mia c'è anche curiosità di vedere come la squadra impatterà con questa partita, con questo ciclo, perché penso che potremmo avere anche delle indicazioni interessanti. Mi aspetto una partita molto fisica, loro sono una squadra che troverà il rientro anche di Fesenco, quindi questa aumenta il tasso di fisicità. Una squadra che per molti aspetti, e non potrebbe essere diversamente avendo lo stesso allenatore, che gioca tatticamente abbastanza in maniera simile, con protagonisti diversi. E quindi vediamo.